Dai primi dati ufficiali, Niki Vendola risulta in vantaggio. Le operazioni di voto si sono concluse regolarmente alle 15 ed è iniziato lo spoglio delle schede. L'alto astensionismo però ha colpito anche la Puglia. Così come ieri sera, il dato regionale dovrebbe essere analogo a quello nazionale, meno 10% rispetto alle ultime regionali. Con il passare dei minuti comunque i dati dovrebbero essere via via sempre più indicativi. Per adesso i comitati elettorali sono deserti. C'è attesa e tensione ovviamente e la scelta di Sky TG24 di non diramare gli exit poll ha evidentemente condizionato questi primi minuti. Nei prossimi aggiornamenti saremo più dettagliati e vi faremo ascoltare i primi commenti dei comitati elettorali ma per ora bisogna aspettare.